Buonasera amici e amiche di Nova News 24. 13 anni di successi, 13 anni di una presenza fissa indispensabile che con ironia, e con la forza da una lunghissima esperienza, ha contribuito a uno dei programmi di maggiore successo della Rai. Ma adesso basta, ci sono cose che hanno priorità e così Loretta Goggi ha deciso di lasciare tale e quale show. Non farà parte della prossima stagione del programma condotto da Carlo Conti, come annunciato in un lungo post. 73 anni, una delle regine indiscusse dello spettacolo italiano, conduttrice, attrice, cantante, imitatrice e sopraffina, così scrive nel post, cari amici, eccomi di nuovo qui. Come stalt? Recentemente vi avevo parlato del meraviglioso periodo che sto attraversando grazie all'arrivo nella mia vita di una creatura che ha riempito le mie giornate, i miei pensieri e il mio cuore di gioia e tenerezza, facendo sparire ogni progetto o iniziativa lavorativa dalla mia mente. Continua Goggi, conosco bene questa sensazione, già incontrata altre volte nel mio percorso, che mi ricorda cosa avevo promesso a me stessa, mettere sempre al primo posto la mia vita. Non mi sarei mai persa di vista. Così, ogni volta che ho sentito il bisogno di guardarmi dentro, che ho percepito che qualcosa non andava come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo, sono scesa subito dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava. E questo è uno di quei momenti, sento quel richiamo per un desiderio che dopo tredici anni torna a emergere, poter sentirmi di nuovo libera di fermarmi per un po', farlo un'altra volta, godermi un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere tra le braccia il mio primo pronipote. Amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su diteci cosa ne pensate e seguiteci sempre su Nova News 24.